Benvenuti in questo videocorso introduttivo. Mi chiamo Paolo, Paolo Pelloni, e sono appassionato di public speaking. Aiuto le persone a comunicare meglio da vent'anni. Lo faccio con seminari, coaching, presentation design e videocorsi esattamente come questo. Saper parlare in pubblico è una capacità straordinariamente importante per tutti noi, per promuovere le nostre idee, i nostri messaggi, le nostre carriere e quindi noi stessi. Malgrado ciò, la grande maggioranza delle presentazioni non sono efficaci e falliscono nel motivare il pubblico ad un'azione. Concordi? Credi che potresti essere più persuasivo quando parli ad una platea? E magari anche più rilassato? Beh, buone notizie. Diventare abili nel fare le presentazioni è alla portata di tutti, anche tua. Nella mia lunga esperienza ho imparato che non esistono regole o un modello da seguire per avere successo. Esistono invece dei principi guida che sono fondamentali per essere efficaci. Non sono complessi o difficili da adottare, ma neanche necessariamente ovvi. Non vengono a noi naturalmente e questo è probabilmente uno dei motivi per cui molti di noi non sono nati presentatori efficaci. In questo corso ti mostrerò cinque principi, cinque linee guida che devi conoscere, ognuna con un esempio di come metterla in pratica. Consigli attuabili già dalla prossima presentazione. Come ho detto prima, chiunque può farlo e questo corso è un ottimo punto di partenza. Fai quindi clic su Start Learning Now e diventa anche tu uno straordinario oratore.